Identificato il ragazzo che ha spruzzato uno spray urticante all'interno della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, nel Lanconetano, provocando il panico che ha poi portato alla morte di sei persone. Si tratta di un minorenne che vive in provincia, individuato sulla base delle testimonianze. Il giovane, accusato di omicidio, non sarebbe però ancora stato interrogato dalla procura. I morti sono cinque adolescenti e una madre che aveva accompagnato la figlia al concerto. Sette persone sono ancora in gravissime condizioni dopo essere state travolte dalla calca prima dell'esibizione del trapper Sfera e Basta. Nel mirino della procura anche il sovraffollamento del locale. C'erano circa 1.400 persone a fronte di una capienza di 469.